Epic! Il Crocodillo! Brozo! Stai fando a me! Un ragazzo che siede di fronte a me, un spogliatore, un ragazzo di colore... Mancino! Bravo! Un difensore centrale? Slovaco? Chi è? Scrinia? Ecco, bravo! L'ultima parte del campionato ci ha salvato tantissimo. E' chiaro! Torito! Lautaro! Bocchiere! Spagnolo! De Gea! Centrocampista, Mancino, Pippo, pure spagnolo! Herrera? No! Mata! Abbiamo giocato alla Juve, alto... Poppa! Francese, esterno, veloce... Francese, esterno, veloce tecnico... Si! Gioca davanti... Attacante... Pure centrale, ogni tanto... Non fa vedere emozioni... Con la faccia... Difficilmente... Sta sempre con la stessa faccia... Marciata! Quello che sta sempre... Lo conosci bene, Gianni! No! Perché vedi tutte le foto su Instagram! L'attacante tecnico, veloce... Grazie! Grazie!